Mi chiamo Francesco Nazari Fusetti, sono il fondatore di Charity Stars, una piattaforma di aste benefiche che raccoglie fondi in beneficenza per oltre 500 associazioni no profit. Abbiamo tre sedi nel mondo, in Milano, Londra e Los Angeles, e abbiamo raccolto oltre 10 milioni in beneficenza. Di recente abbiamo annunciato anche un progetto legato alla blockchain e abbiamo fatto la prima ICO italiana raccogliendo più di 6 milioni di dollari per finanziare questo nuovo progetto che si chiama 8coin. Il punto di forza di Charity Stars è la viralità del progetto. Il fatto di aver avuto centenari di celebrity che hanno pubblicizzato le proprie aste sui propri canali social ha fatto in modo di crescere molto velocemente senza importanti investimenti in marketing. Un punto di bolezza invece è che molti di queste aste sono quasi dei progetti speciali per cui non sono dei processi automatizzati e quindi c'è molta frizione tra l'associazione e i nostri campaign manager per gestire queste iniziative, finché non avremo una piattaforma che sarà completamente self-service, un po' a modello diciamo eBay. Un consiglio è che gli investitori, oltre a portare fondi, possono essere molto utili per le connection e per i consigli. Quindi una cosa che si sente dire spesso, però solamente quando la si vive di persona la si capisce. Ho avuto la fortuna di avere investitori veramente molto bravi e che sicuramente sono stati determinanti per la crescita del business. Quindi fare attenzione a chi sono gli investitori, non guardare soltanto l'aspetto economico ma anche quello dell'aiuto che possono dare.